Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 46esima puntata della serie tedesca Oggi siamo qui con... Finimmoci a tutti Allora, abbiamo comprato questa MiG Station L'ho posizionata io perché dovevo cercare un posto buono dove posizionarla E dove ci sta è veramente poco posto Era un'idea di metterla qui anche a cavallo di queste Poi era di metterla qui davanti a questi silos E poi di metterla qua dove sono finito Qua per così, solo che alla fine l'unico posto decente Ora, qua non si poteva metterse, non era anche un bel posto Perché poi bisogna entrare per l'acqua E' stata di metterla qui che è un posto un po' brutto Quindi, niente Stiamo... adesso ho messo una balla dentro per sbaglio Perché ce le volevo preparare davanti e per sbaglio le ho messe dentro Quindi, ora le sto mettendo... le stiamo riempiendo Ah, c'era il modo per... scarica qui le balle Sì c'è, bene Allora, straw Scarica qui le balle Com'è? Scusa, ma me lo sono sognato Ah, no, così Una volta era così, non lo è più Scarica qui le balle, avviciniamo... Ma poi cos'è sta cosa che... Non me lo fa scaricare Eh, facciamo zeta Lo sistemerò con calma poi Perché sulla cloche l'ho riuscito a metterlo E... E niente, adesso... quindi la paglia è già comoda qui a balle Il fieno anche e il silato l'ho portato col camion In modo da non perdere troppo tempo Poi pian piano magari porteremo anche le balle di silato direttamente Ok 24.000, io non so quanto porti Guardiamo un pochettino se magari è al 25 per... Eh, no, dov'è? 60% Allora porta sui 40.000 Boh Intanto mettiamo un po' di fieno Eh... Sì, ho comprato una vacca ragazzi Perché volevo sapere dove metter l'acqua Perché ho comprato anche il tank per l'acqua Che provvisoriamente ho messo qui dentro Questo è il tank per l'acqua C'è dentro 20... No, 46.000 litri di acqua E va data qui Solo che non sapevo come darglia né qui né dentro Non mi funzionava quindi ho detto ne compro una Solo che poi bisogna andare avanti e venire indietro dritti Non va messo di fianco quindi... Ho scoperto come si fa Allora... Comunque questo qui è comodo anche perché ci puoi mettere dentro l'erba Invece che il fieno E... Diciamo che l'erba per noi è più veloce ovviamente da fare che il fieno Perché il fieno va voltato e va ranghinato L'erba... Se la trebbiamo, la trebbiamo E... Basta, la raccogliamo Guardate che forse pressandola viene anche in automatico fieno su 17 se non erro Vabbè... Tengo pinta di niente Si, si, si Viene fieno Se spera che fieno Non ti stai parlando del culo Mi sta buonemmi Se non viene fieno si arrangia Quindi ora L'idea era di quella di 36.000 Quanto ne porta allora? 40.000 penso Quindi ora proviamo 4, 8, 12 Dovrebbe venire pieno, pieno, pieno la paglia con questa No Vabbè ne ho preso una di là Tanto ragazzi non serve farle dritte Perfette le... Le pido Ora c'è così tanta paglia perché sono stati fatti dall'80 al 118 Tutti ad... What... Vabbè No! Mangia fuori tutto Ma ho mangiato la roba qua Ho mangiato tre balle e non mi è aumentato E' sempre 37 Allora... Tra calmo un artico Mh! Mettimela un attimo giù Non le voglio prendere due o tre Perché se me le mangio di nuovo Le voglio prendere due Perfetto Andiamo un pochettino Non vorrei che me le mangiasse perché 32... Vanno più che bene insomma Però adesso vanno bene Mettiamoci... Bell'idea di mettersi qua Mettiamoci qui Intanto spingiamo dietro questa Scarichiamo... Quanti sono? 40... 32... 32 mila litri 37 mila litri di roba Perché non mi fa scaricare? Ah perché forse non faceva scaricare dai cassoni? Cioè dai carri direttamente Che noia Che barba Che noia Ehm... Siamo sicuri che non faceva scaricare? Boh Può essere Se forse è vero non faceva scaricare? Non ricordo Quindi adesso andiamo a prendere le balle che facciamo prima Sam cos'è che oggi sei muto? C'è Ma non puoi parlare? Eh sta strappo no? Che può parlare? Eh no vedo che ti muta il microfono Poi... Perché se no io cosa faccio? Faccio la puntata da solo Eh ma... C'è sta coi io C'è sta coi io A posto C'è i tamburini qua compagnia no? C'è sta coi io Come tutti Oggi Due malgutti Chi è che fatica? Io Te Sei sempre A posto Sei sempre quello che fatica a te Sì Eh vabbè Non sempre eh Allora Chiota mi metto sotto la pianta Chiota Gli augurano il culo Naturalmente Eh quindi adesso ragazzi carichiamo le balle perché Mi sa che si è un pochino bugato il carro qua Quindi si è fatto Eh? Vendo del lato Vendo del lato Vendo del lato Vendo del lato Ma non penso perché Ce ne sarà al massimo una bennata Ma io non ho mica toccata la balla lì Allora 6 per 6 Quindi ce ne mettiamo 6 Allora 6 12 18 Porca di quella miseria Perché Sono andato a prenderla sopra 6 12 18 24 24 24 22 Ma perché devono volare le balle? Ma non c'è nessuno qua Ma che buono Ma che buono Ma che buono 24 Ci mettiamo ancora questa e basta Bellum bello questo è Bellum bello questo è Bellum bello Bellum bello Pica la madonna qua 47 minuti Con la griglia Addio e anche me mi è uscito 47 minuti ha tornato? Sieh si è sentito tutto tronare su Witness? No xD bello 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 chi è scagna olio cragargo e lo so, adesso ce l'aggo bello tendo a scagna guarda che freccia ford momento bellugio io non lavoro si chiama ero solo l'olio lo scambio nonostante nonostante non c'è il passaggiero oggi siamo pieni e promendo allora vallo vender se vuoi fandi piano che scappò delle valli eh c'è tanta accelerazione fa sobbiamo anni sennò quello dai ma non posso neanche frenare e ragazze non non statemi a dire nei commenti che potevo mettere le cose alte ma perchè non sono solo figurative ora vi faccio anche vedere preferisco mettere le basse che però so dove vedete sono solo figurative oltretutto lampeggiare anche la spia dell'olio siamo a posto l'olio 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 dicendo i miei diretti e si è stato scaricato in qualche altra parte si è a farmi un farm nella farm vecchia se vuoi quello lì che lo porto un po' io c'è 45 mila litri che posso portare io allora piano io c'aggio io c'aggio ragazzo raddoppiati a mo mille allora io io c'ho scritto ma non voglio schiacarmene e poi ho detto la massima dov'hai sai ma mica compost quello da vendere se non sono più il carro guarda che l'avevo venduto eh dobbiamo chiamare anche tamburrini allora via che c'è stato fa eh no che ha fatto ecco eh eh da vendere decorra vita c'è attacco e del fortuna no ma che fortuna ravizza che è andato a casimo e stiamo a posto via lo deutz mio perfetto qua dovrebbe essere a posto 36.000 litri ripristiniamo sto coso perché sei bugato c'è sta lo 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 t7 qua e prendi il t7 certo faccio il lo 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 so ma mi sa che sia leggermente baggato eh la giondì ma... chi mi ha piaciuto la giondì qua? io ma... non ti piace? boh mi pare scasca scattolo ecco eh è Daniele che l'ha voluto è colpa sua incolpiamo lui allora... tante ragazze ho comprato... ho ripristinato camion... no non è vero devo sempre cambiare lo logico ma perchè lagga? sulla farm quella... in farm si quella solita ah control t ma... di che... che cacchio ho detto? che non aveva abbastanza capacità? boh a me non mi piace più la spia dell'odio quindi questa la possiamo buttare via eh... non lo buttare che può servire no ma perchè ne avevo preso una in più ho detto... scema se mi serve a me sei senza olio? no no però per la venire eh ce sta ce ne sta tante oddio che laggata ma... ma... ma vado sotto i ponti eh? si ma vai... vai sotto i ponti no nè te compra il 1080 io vado sotto i ponti per solo per una ragione di verona di verona mi fammi da... la bella capito? ecco non mi fa scargà scargà o carga quale delle due siamo car caricare eh allora adesso arrivo io sulla scritta frumento vai tipo dei punti eh cambia e rimettilo vai tipo sull'orzo e rimetti frumento grido di notte c'è giro di tutti più o meno che te la manda la forca la pelle eh ma si va a hack eh eh tu samuel col cuorso qua eh ma spegniamo tutto che tanto non serve che... se sta mano ancora qua è per... è per Leonardo eh? se sta mano è ancora qui è per Leonardo no è anche per la legna apriamo qua quanta roba c'è 32.000 ok devo tornare anche sulla ricaricata la Damburin con T7 è un po' lo sverdo te pare come fa lo sverdo? faiiii nooo che cavolo ho fatto vedete dietro a fare il pirla ho perso un sacco di tempo che ho fatto? ora eeeh oh che c'hai? eh e' zombato Brian all'uogamio me ne stavo cargà porca mi stavo cargando me ah ma perchè so... ah quando mi fanno cavolami quando faccio c'è c'ho dazzaro volume so' cliccato e mi ha aperto le cose e' ancora io non lo sono adesso eh sono sul camion ma io tipo mi sto allontanando dei 200 metri per mi esco per alzare volume da farmighe no? mi s'accusa mi s'è aperto le grade anche... orca a me mettere cinghie a me le cinghie che fa cinghia? dai su scania carica su quanto sta? quanto sta? decidito andiamo io trovo la ceppa allora dov'è che va? ma aspetta noi abbiamo visto no abbiamo detto vendiamo vendiamo ma si beh effettivamente sta in alto il prezzo il raffaizo in qual'è? ah quello lì porca miseria ma ci ingotiamo più ingollati i tamburrini dai piopatex e me lo ingollo a parte che durante le grandi richieste non dovrebbe bastarsi il prezzo fammi capì in teoria che è meglio i telefoni quadrecore o octa core? eh dipende in teoria octa core con il gigahertz più basi con il clock più basso perchè con su che eh scalda di meno consuma consuma la batteria e beh quella la consuma tutti i processori ma scaldare scaldano di meno quelli che hanno più processori e meno frequenza che ci c... che... che... che devo dare in B? frumento frumento ma scaldare scaldare che i testi che scredse le palle ma sì lo siedono qua però l'ho fatto io a posto andiamo a messo a scrivere il vastardo che zeppa eh... il vastardo Adesso poi vedi che guarda sto video E commenta Oh ma che tamburrini che devi da fa' Fate qua S730 E volendo potremmo prendere anche Altri camion C'è 420, 480, 520 580, 620, 680, 730 Si sarebbero forse da rivedere Magari con calma potrei rivedere C'è il design Senti del phone? Eh? Senti del phone di casa mia? No Belli che lampeggianti di messi di davanti Comunque mi piace Sì ma ma c'è il carro che si schiaccia un po' troppo Mi sa che c'è come molle Me me ma se forse tutte La cosa se forse tutte Ma finì come Daniele E se per dire la vita di per strada Ma che oggi Ma oggi è stato E' un corbo che c'è No 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 Non mi sé No Non mi sé Stenderemo Uno singolo Porca Ma fortuna la c'è qua ma sta appiccato spendono da ieri mo stavano attimo che manca l'olio aspetta come manca l'olio ecco apporto è partito da te il corno lo si misto te lo si bevuto non lo si misto saperlo pa era fatto la ruschetta lucinco lo si misto no nè lucinco era molto appiccato quando si è sfrenato stava spendo ma stava un po' in discesa la marcia la marcia non la mette metti il lucinamà vabbè metti tutto tutto probabilmente i dati dei miei ammirabili mica come di vostri si si ma quello ma che ti fai io fai la nav fate la batteria io sa la roba mamma che ma c'è ciao simo ciao non ne scappote ne però si ma sei sbagliato strada ah io passo da qua passo da là però è un mocco più lungo vedi eh si c'hai ragione perché la sono sbagliata anch'io dove vengo mai siamo sbagliato strada entrambi e io mi sono pure capitato ehhhh ragazzi dai eh io Ma questo mu ... mondo di te li di su abba morto cuci cucii cuci... Sì, adesso ti c'è una botta del reto, volendo? Ti c'è stata un crastata Non stanni esso, non stanni esso Tra un camion e un re Ma mi pare che non funzioni tanto bene la cabina di sto camion Poi magari è una mia impressione, però Non è una botta del reto Eh, eccolo che parte A posto! Eh sì, ma c'è stato dentro! Yo, 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 cargame pure a me, cargame, yo! Che te cargo? Cargame pure a me Ma che ci avete fatto? Vogliate capire cosa ho fatto Io ho capotato, Simo che si è caricato Dai, dai, che ti addrizzo, su No, ma mi addrizzo da solo, non ci occorre Si bagga un pochettino e si addrizza, vedi? Eh, eh, eh Ma se volimo peggio, facimo meglio Ma facimolo peggio, ma che se ne frega Ce quiénergie Guarda che mi devo Er pulling, pulling through through Ma accounting The, 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 ah, 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 ah Le finestrate, vedi che finestrate Le finestrate, ma Devine strato di Praga Dovevo dargli Eh, aspetta che... Allora, all'ospedale la prima curva è sempre dritto Per andare dove dobbiamo andare? Che strada dobbiamo fare? Qua Seguite a me Sono il TomTom Ah, lascia perdere TomTom che già TomTom mi fanno un po' girare le valle, eh, sti periodi Cioè, sti cretini Tu hai scarico ribaltato? Sì E anche alza anche tanto questo Stimo, vai che poi mi ci metto in marcia indietro Bamburrini E io per quando vengo a note C'è bene, mi te rampeggia Eh Potto C'è questo portello era aperto Eh, fa caldo Yo, 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 veniamo C'è, 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 c'è C'è, 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 c'è C'è, c'è E devi fare lì, sì, mo Sennò non si è alza di qua, eh Ah E'لا c'è, c'è Rosso E' mangiaanza, Belle E' andata fino a poverce Una bomba sta本čita To, la storme.. E' la nuova E, dai, dai, no, a due Ora per la scena Ti demo, questo camion Cosa Bakun io 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 romeno 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 e li ha fatto i madamburini di me ma è possibile e beh perchè non lo sai fa ahahah e dai io io già per io lo che ha fatto questa città così stretta e gli sai sai da ieri io ti capelli ma ma sta per me che nella realtà è così eh è uguale identica la realtà in teoria mappa è identica no qualche edificio un po' modificato però grosso modo quello manca le puntine e proprio le puntine mancano allora fu un volum entro romano per farlo vaffallupolo ha aperto un'ora estranea vaffallupolo ma che ci è bello con i fendi nebbia simo che mi investe io che voglio di più ma c'è l'ultimo asse frenato investimento per il futuro a posto mi hai investito fatto belle ah io volevo investire da murini guarda le mie frecce come belle le mie che si fa è tanto brutta le mie fanno e qua nell'anno e qua nell'anno e qua nell'anno ma queste qui non sono le quattro frecce queste qui le metto io come posso vedere cioè se voglio le posso mettere anche così ok basta ma chi ne sta scrive in peppa ma che scrive ma che scrive non glielà fa cosa 68000 litri ce ne sta ancora sulla farma vecchia no Andrea io allora l'oglio ecco come va la tiriamo indietro devo ancora portarla a fare ma come io oh già io ho prima di tutto lo sei l'ho fatto ma com'è che non carica ha fatto 4 quindi mi do io devo stare a cuore chi ha fatto 22 si eh 14 15 mmm ma com'è la situazione scelto la secca, se non ho l'acqua con la secca più stabio è peggio non è che permane sempre quella più stabio aumenta stiamo per caso ci mi sto via eh non siamo tanto qua lo frumento se lo abbia tutto penso ma che cavolo dici porta 42 ce n'è dentro 56 e già stai al 15% e pensavo ne portava 60 no no non è a bossini comunque ragazzi io direi che per adesso basta ci fermiamo non abbiamo niente di bello da fare poi prenderemo le vacche noi per conto nostro perché era l'obiettivo di questa puntata ma scappa sempre un intralcio un intralcio meglio così perché stiamo facendo tanti soldi e niente io vi ringrazio tantissimo per la visione da Dan è tutto no sto scherzando io vi ringrazio tantissimo per la visione da Dan film e Dan è tutto ciao a tutti ciao a tutti